C'è una cosa che mi piace leggere tantissimo in tutta la mia carriera di lettrice, sono le autobiografie. Le autobiografie mi fanno capire e mi fanno percepire come è l'autore o l'autrice, come si comporta, qual è stata la sua reazione a questo lavoro, come ci è arrivata a questo lavoro, quali sono i suoi sogni, le sue speranze e tutto ciò che circonda la sua vita. Non per essere pettegoli, perché potrebbe sembrare, ma è un modo per connettersi un po' all'autore o all'autrice. Lo trovo un modo eccezionale perché l'autore si descrive e si mette completamente a nudo o quasi rispetto ai propri lettori ed è una cosa molto complicata e chi lo fa ha tutta la mia ammirazione, perché non deve essere né semplice, perché ti apre comunque a un giudizio dei lettori e anche delle case editrici che è un giudizio spesso non tanto benevolo, quindi ci saranno state critiche e insulti. Quindi è una cosa che io apprezzo tantissimo da parte di un autore o di un'autrice. Oggi sono qui appunto per descrivervi e per illustrarvi le autobiografie che mi hanno colpita. Ogni autobiografia ha un suo modo da parte dell'autore o dell'autrice di descriversi e di proporsi. Trovo meraviglioso tutto questo e ho pensato appunto di fare questo video per descrivervi e per illustrarvi le autobiografie che mi hanno colpita di più e quello che ho letto soprattutto, per mostrarvele in sostanza, per far magari orientare un lettore che vuole iniziare a leggere qualche autobiografia, magari iniziando da un tipo di autobiografia piuttosto che un'altra, quindi ho deciso di fare questo video. E vi parlo solo di mangaka, quindi non vi parlo anche di fumetti occidentali, magari quello lo trattiamo in un altro video separato, se vi è piaciuto questo. Partiamo da un'autobiografia molto più soft, anche se non è proprio così, e sto parlando di disegna Kakukaku Shikajika di Akiko Higashimura, edito da J-Pop in una miniserie in 5 volumi. Disegna è la storia di Akiko Higashimura come autrice di manga, quindi la vedremo sia dal punto di vista infantile, quindi dall'adolescenza diciamo, fino al momento in cui esplode come autrice. È una storia che in primis si incentra sulla figura del suo maestro, del suo primo maestro diciamo di disegno, ed è un po' un'autobiografia che però è dedicata al suo maestro. Quindi è un'autobiografia però si incentra soprattutto con la parte della sua vita che è stata fondamentale per diventare ciò che è oggi. Quello che ci illustra Kiko Higashimura all'interno di questa autobiografia è soprattutto la difficoltà dell'emergere come mangaka e la sua difficoltà a capire che quella è la sua strada. Alla fine di tutta la serie si percepisce la lotta che c'è all'interno tra i vari mangaka, tra le varie case editrici, e la difficoltà appunto di creare sempre storie che possano apprezzare il pubblico e che possano apprezzare le case editrici. È una lotta continua ed è molto molto stressante, lo fa ben percepire l'autrice che si è sempre sentita al di sotto e inferiore agli altre persone. È un'autobiografia che parla soprattutto della sua sfera professionale, ma ci sono molti punti. L'autrice ci rivela a se stessa il suo essere, soprattutto è un'autrice molto particolare, è un'autrice che qua si mette proprio a nudo e mette anche i propri difetti, che sono tanti, ma soprattutto quello che ci descrive l'autrice in questa serie è la forza di volontà che ha avuto e l'ammirazione verso quel maestro che l'ha lanciata nella sua carriera in qualche modo. Quindi è un'autobiografia che vi consiglio, perché scoprirete un'autrice che magari non è molto amata nel nostro paese, che dovrebbe essere più amata e capirete anche cosa c'è dietro l'essere mangaka, che non è per nulla facile. Un'altra autobiografia molto importante e molto diversa da disegna è la mia prima volta di Kabi Nagata, seguire lettera me stessa, perché nel seguito del percorso di Kabi Nagata la mia prima volta molto spesso ho letto in giro che è stato un po' decontestualizzato, cioè si parla spesso di questo volume come la scoperta della sessualità dell'autrice, in realtà non è proprio così. L'autrice sotto forma comunque di una caricatura, perché in questo caso diversamente da disegno, qua si disegna in modo caricaturiale, smorzare un po' i temi trattati, perché i temi trattati non sono per nulla leggeri, ma parlano di patologie psicologiche molto gravi tra cui disturbi alimentari, autolesionismo, oppure anche un evento molto particolare, quello di essere attratta sessualmente dalla propria madre. Non sono temi banali, non sono temi che vengono trattati in altri manga, sono temi molto forti, sono servite all'autrice per capire in modo molto oggettivo e molto chiaro cosa le stesse succedendo, cosa voleva fare, come lo voleva fare e cosa voleva fare soprattutto per se stessa. Diversamente da altre autobiografie, questa è un'autobiografia che serve come percorso dell'autrice stessa per uscire da vari problemi che la affliggono. Sono problemi psicologici gravi che lei affronta in questi volumi in modo totalmente ironico da una parte, per appunto, come vi dicevo, per smorzare un po' l'atmosfera molto pesante. Ma vi assicuro che i temi trattati sono forti e ben chiari. Oltre al fatto che scopre la sua sessualità c'è anche questo, ma scopre moltissimo le sue fragilità ed è un percorso per la rinascita. È un'autobiografia che mi ha colpito molto perché è veramente forte, ma veramente forte, che vi lascia un po' spiazzati visti i colori rosa, insomma. Questa scelta grafica non vi spiazzerà molto, ecco, in questo senso. Però è un'autobiografia che serve soprattutto a noi di questa generazione, ma anche ai giovani, per capire quanto sia importante cadere in certi meccanismi dove uno può cadere a causa delle pressioni psicologiche e sociali che abbiamo tuttora e che avremo sempre e costantemente. Quindi è un'autobiografia molto importante che parla di temi molto, molto seri ed è molto diverso appunto da disegno. Proprio per questo che mi piacciono le autobiografie, perché ognuno dà un punto di vista diverso dall'altro. Sono molto, molto diversi tutte queste autobiografie. Arriviamo al titolo di cui non possiedo la copia fisica, ma ce l'ho in digitale, che è il diario della mia scomparsa di Ideo Azuma. Ideo Azuma, come sapete, ci ha lasciati, mi sembra, l'anno scorso o due anni fa. Adesso di preciso non mi ricordo, ma forse più due anni fa. e in questo volume, che è appunto il diario della mia scomparsa, troverete anche un'intervista esclusiva per l'Italia, dove parla di se stesso, dell'opera, eccetera. Nel diario della mia scomparsa è un volume veramente pesante, ve lo dico sinceramente, sia per quanto riguarda i dialoghi, sia per quanto riguarda il tema trattato, che è quello della scelta volontaria dell'autore di diventare un barbone. Perché diventa un barbone? Sostanzialmente è una pressione psicologica come manga cattale che non riesce più a concentrarsi e a dedicare la sua vita a quel mondo. Quindi decide di, pur essendo sposato, pur avendo figli, decide di lasciare tutto e vivere per strada. Lo troveremo quindi a rovistare tra i rifiuti, lo troveremo a cercare di accapararsi qualcosa per mangiare, a fare l'elemosina, ma non cercherà mai aiuto riguardo la sua situazione. Lui soffriva anche di alcolismo pesantemente, aveva delle allucinazioni, ci sono stati momenti in cui è ritornato se stesso, ha fatto lavori anche umilissimi come l'operaio, poi è ritornato nel suo mondo normale, diciamo, tra virgolette, ma non ci stava molto bene perché appunto la pressione psicologica è arrivata a un punto tale che non riusciva più e quello che mi ha colpita tantissimo è la parte finale dove era stato ricoverato appunto per questo problema di alcolismo molto serio, molto grave appunto che gli dava le allucinazioni. È un'autobiografia durissima, pur essendo disegnata come disegna di Aozuma, quindi molto anche esso caricaturiale e molto da farlo in modo ironico, si percepiva moltissimo rispetto a Kabi Nagata la sofferenza che stava portando addosso, soprattutto per quanto riguarda i suoi problemi di alcolismo che erano gravissimi e che lo ha portato molte volte ad essere ricoverato, anche ricoverato, legato per esempio. non sono problemi banali e sono problemi che mi hanno colpita tantissimo. È un'autobiografia fortissima e molto, molto pesante. Ve lo dico perché leggendola mi ha pesato proprio psicologicamente leggerla. Però ho capito tantissimo del mondo dei mangaka leggendo queste varie autobiografie e ho capito quanto sia dura mantenere determinati livelli. Vi consiglio comunque di leggere questa autobiografia per capire un po' la psicologia dell'autore anche se non vi siete mai avvicinati all'autore stesso, ma è importante percepire e capire che tipo di pressione psicologica c'è dietro questo mondo. Sulla scia delle autobiografie leggere questa è una novità della colonna showcase che è leggendo Kodami il vagabondo di Tokyo di Takashi Fukutani che è scomparso nel 2000 ed è la prima opera che arriva in Italia di questo autore che alla fine di questo volume qui alla fine di questo volume troverete la sua biografia sostanzialmente dove ripercorre tutta la vita. Quello che vi voglio dire che all'interno di questa è una raccolta di racconti della sua opera più celebre che mi sembra che si chiami adesso non ricordo Pensione Dokudami appunto e vanno dall'82 mi pare adesso scusate ma non è che mi ricordo tutto dall'82 al 90 quindi una raccolta di racconti non è tutta la serie di Pensione Dokudami è una raccolta di racconti perché è una serie che è andata fortissimo in Giappone tra il 79 e gli anni 90 una serie molto famosa che ci sono stati fatti film insomma è una serie molto importante e questo autore non era mai arrivato in Italia e ci è arrivato grazie alla collana Showcase io ero molto titubante nel recuperare questa serie questo volume anche perché era una raccolta appunto di racconti in realtà mi ha completamente spiazzata sia per come è strutturata strutturata in modo da essere una semi-autobiografia nel senso che in questa serie c'è un protagonista Yoshio che è praticamente l'alter ego dell'autore l'autore racconta spezzoni attraverso Yoshio del suo passato di quello che ha dovuto subire di quello che si è auto-inflitto e lo racconta a spezzoni attraverso Yoshio con delle scenette comiche che hanno appassionato evidentemente il popolo giapponese ma anche con scene molto crude molto forti e molto importanti dove in certi momenti compare anche l'autore stesso che interagisce con Yoshio il capitolo molto importante è l'ultimo capitolo di questo volume che riguarda il cinquecentesimo capitolo dove finalmente l'autore si rivela e come speciale mette tutta la sua vita e lo fa in modo davvero davvero importante perché anche in questo caso è sincero con il lettore non si è mai nascosto non è una persona che nasconde il proprio essere perché da quello che ho letto è andato anche in una trasmissione televisiva mentre veniva intervistato beveva aveva forti problemi di alcolismo ed è stato ricoverato anche lui spesso per questi problemi ed è morto anche per questi problemi a causa insomma è uno dei fattori che ha portato la morte e c'è un leggero collegamento con Hideo Azuma perché anche in questo caso le pressioni psicologiche dovute dalla società dal lavoro che si svolge dai ritmi che ci sono dietro ha portato a determinate decisioni è un'autobiografia diciamo semi ma secondo me Yoshio è solo un pretesto importantissima e molto famosa in Giappone cioè famosissima non si capisce perché in Italia non era mai arrivata e ho trovato spiazzanti alcuni momenti alcuni momenti veramente molto tragici e leggendo anche la fine dove c'è appunto la cronologia della biografia appunto dell'autore ho trovato ho provato soprattutto un sacco di tristezza e veramente mi ha lasciato tantissimo questa autobiografia e vi consiglio tantissimo di recuperare se vi piacciono le autobiografie questo modo è veramente unica perché è strutturata in modo differente da tutte quelle che vi ho fatto vedere finora costa 25 euro 24 euro e 90 trovo che sia una una scelta coraggiosa da parte della casa editrice portare autori di questo genere e soprattutto questo volume è importantissimo per capire cosa c'è dietro ciascun autore o autrice anche perché molto spesso ci dimentichiamo che sono esseri umani e qua c'è tutto il peso dell'essere umano ve lo straconsiglio veramente mi ha colpita tantissimo al pari di il diario della mia scomparsa l'ultima autobiografia che vi segnalo riguarda il mio cuore geekiga e sto parlando del giovane Yoshio edito da Canicola di Yoshiharo Tsuge vi ho già parlato nella rubrica geekiga di questo volume so che sono indietrissimo non faccio più una puntata penso da un anno spero di rimediare il primo possibile qui c'è tutta la vita di Yoshiharo Tsuge poi lo potete dire romanzato o meno quello lo sa solo lui però qua c'è la nascita i problemi che ha Yoshiharo Tsuge con il patrigno che praticamente lo maltratta con un Giappone del dopoguerra molto forte e molto drammatico perché ci sono scene e ci sono delle realtà molto forti di povertà assoluta dove Tsuge pian piano fa uscire la sua passione e cerca di emergere in ogni modo quello che è ci prova con tutto se stesso è quello che mi ha colpito tanto di questa autobiografia è la tenacia di Tsuge di non arrendersi alla società o comunque a quello che gli era stato imposto tra virgolette ma di cercare di portare avanti i propri sogni le proprie ambizioni e le proprie passioni cosa che nel Giappone in quel periodo era molto difficile per la povertà che c'era per la precarietà che c'era e per le necessità che si dovevano avere rispetto a tutto il resto quindi mi ha colpito tantissimo questa autobiografia che ovviamente ricalca le orme di Echiga come al solito soprattutto riguardo il tipo di ambientazioni il tipo di disegno le inquadrature e tutto il resto ma che ha qualcosa in più rispetto alle storie Echiga classiche perché c'è del suo cioè tutto quello che succede in questo volume parla della sua vita e se vi piace se vi piace il Gekiga volete avvicinarvi al Gekiga ma non volete magari prendere una vita tra i margini e volete conoscere Zuga sicuramente il giovane Yoshio è il volume migliore per conoscerlo per amarlo come lo amo io soprattutto per conoscere una parte della storia giapponese che al contesto storico in questo volume è molto importante queste sono le autobiografie che vi volevo segnalare soprattutto quella più recente che legge Endokudami perché è un'autobiografia veramente fantastica e vi colpirà tantissimo se conoscete altre autobiografie di mangaka scrivetemele qui sotto perché io sono sempre alla ricerca di autobiografie per spulciare un po' e per capire un po' la psicologia di mangaka quindi vi lascio qui sotto se volete consigliarmi qualcosa di nuovo nell'info box troverete tutti i link ai social e link ad amazon per acquistare i volumi citati spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao